Si avvicina l'appuntamento con le urne e con le elezioni europee comunali. Ultimi appuntamenti con le convention di comizi prima del silenzio elettorale che scatterà lo scoccare della mezzanotte di venerdì 7 giugno. I seggi saranno aperti sabato 8 giugno dalle ore 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle ore 7 alle 23. Le operazioni di scrutinio per le elezioni europee inizieranno subito dopo la chiusura dei seggi, mentre quelle per le comunali inizieranno lunedì 10 giugno alle ore 14. Per quanto riguarda le europee, l'Italia eleggerà 76 membri dell'assise di Bruxelles. Nella circoscrizione che ci riguarda, ossia Italia Meridionale che comprende Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia, verranno eletti 18 eurodeputati. Il sistema è quello proporzionale, vale a dire ogni lista elettorale otterrà un numero di seggi proporzionale al numero di voti ottenuti. Alle elezioni europee è prevista la cosiddetta soglia di sbarramento. Le liste che prendono meno del 4% dei voti non eleggono parlamentari europei. Le liste presentate dai partiti devono poi rispettare la parità di genere. In ciascuna lista i candidati uomini e le candidate donne non possono essere più della metà del numero totale dei candidati, ed i primi due candidati della lista devono essere di sesso diverso. Per esprimere il proprio voto all'elettore basta barrare il simbolo di una lista. Se vuole può anche aggiungere da una a tre preferenze per altrettanti candidati al Parlamento europeo che fanno parte di quella lista. In assenza di preferenze il voto va solo alla lista. Non si può fare il cosiddetto voto disgiunto, ossia non si può barrare il simbolo di una lista e dare la preferenza ad un candidato di un'altra lista. Se l'elettore esprime più di una preferenza, queste devono essere per candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda e terza preferenza. Per intenderci, non si possono dare le preferenze solo a due uomini o solo a due donne. Se si vogliono votare due uomini, bisogna indicare il nome anche di una donna e viceversa. Passando alle comunali, in provincia di Salerno si voterà in 47 comuni. I più popolosi sono Nocera Superiore, Capaccio Pestum, Baronissi e Sarno. In questi comuni, con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, vige il sistema uninominale a doppio turno con eventuale ballottaggio. Con questo sistema, un candidato deve ottenere almeno la maggioranza assoluta, ossia il 50% più 1, per essere eletto durante il primo turno. Nel caso in cui nessun candidato raggiunga questo risultato, viene indetto un secondo turno di votazioni dopo 15 giorni. Nei comuni con meno di 15.000 abitanti, vince chi prende più voti al primo turno, a prescindere dalla percentuale. In presenza di un solo candidato, costui viene eletto soltanto se raggiungerà il quorum, ossia solo se almeno il 40% della popolazione abbia votato lui o lei e ottenuto almeno la metà dei voti validi. Per poter votare, bisogna recarsi al seggio elettorale muniti di un documento di riconoscimento valido della tessera elettorale. Chi fosse sprovvisto di tessera elettorale potrà chiederne un'altra negli uffici elettorali del proprio comune, consultando sui siti delle singole amministrazioni date ed orari di apertura. Noi di Rete7 seguiremo in diretta lunedì 10 giugno lo spoglio delle elezioni europee comunali del nostro territorio, attraverso collegamenti continui ed in tempo reale con i nostri corrispondenti.